E' di una persona arrestata ed una denunciata per porto abusivo di arma l'epilogo di una serata movimentata che poteva avere più gravi conseguenze scongiurate dal tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Ieri un giovane 23enne è infatti entrato nel bar di Viale Europa a Ragusa dove lavora l'ex fidanzata e ha iniziato ad importunarle e offenderla insieme ad un amico, anche lui in evidente stato d'ebbrezza. Un cliente del bar assistente alla scena e vedendo la donna in difficoltà è intervenuta in sua difesa ma è stato immediatamente aggredito con calcio e pugni in faccia. Subito è stato chiamato il 113 e in pochi istanti due volanti della polizia sono intervenute sul posto bloccando uno degli aggressori, mentre l'ex fidanzato ha cercato in vano di allontanarsi e di disfarsi del bastone di 60 centimetri che aveva portato con sé. I poliziotti però non lo hanno perso di vista e sono riusciti a bloccarlo. Gli agenti a quel punto hanno soccorso l'uomo aggredito e la donna molestata. Nel frangente il giovane ragusano di 20 anni simulando un malore ha chiesto di poter uscire dall'auto di servizio ed appena fuori nel tentativo di allontanarsi ha aggredito uno degli agenti afferrandolo per il collo. L'uomo è in preda ai fumi dell'alcol a opposto resistenza. Raccolte le querele delle parti offese la polizia ha arrestato Davide Nicita, ragusano di 20 anni con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, mentre per l'ex fidanzata è scattata la denuncia per portabusivo di oggetto atto ad offendere. Grazie.